Ringrazio fortemente i ragazzi perché oggi non era facile, abbiamo trovato una squadra forte e il primo tempo forse ci è mancato un po' quella personalità, un po' quell'esperienza per poter gestire al meglio soprattutto nel giropalla e cercare di mantenere di più il possesso. Chiaramente sapevamo che era una situazione complicata per noi perché piove sul bagnato in questo momento però devo ringraziare i ragazzi perché chi ha giocato si è fatto trovare non pronto ma prontissimo e quindi veramente hanno fatto una partita di cuore quello che mi aspettavo. Venivamo da due sconfitte che purtroppo ci aveva un po' tolto delle certezze, oggi nella ripresa la squadra è cresciuta. I ragazzi sono stati veramente bravi, abbiamo interpretato benissimo la partita, tutto ciò che le avevo detto l'hanno fatto la lettera e certo sì, potevamo sicuramente, almeno una delle occasioni che abbiamo avuto, potevamo sfruttarla meglio però dai, siamo stati bravi anche perché poi abbiamo avuto l'infortunio di Ciccio, del difensore centrale, di Fulvio però l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, ci siamo abbassati un po' però abbiamo speso parecchio durante la partita.